Quel residuo solido ed opaco a cui Sartre diceva che un'immagine non poteva risolversi sembra essere ora l'unico criterio identificativo delle immagini stesse, da dove la solidità, essendo ora perfino mediata tecnicamente, diventa infinitamente duplicabile. Ma da quando in qua la questione delle immagini si è risolta nell'identificazione delle condizioni materiali di genesi, produzione e fruizione delle stesse? Da quando in qua noi pensiamo per esempio che le immagini siano totalmente associabili, secondo questo dispositivo, ad una produzione visuale infinita e non per esempio come pensava Eserstein e come ha fatto Eserstein anche dalla produzione verbale. Quindi che ci può essere, salve, più analogia a volte tra una enunciazione verbale e una visiva, se per esempio, ed è un esempio che fa uno dei più interessanti filosofi francesi contemporanei, Jacques Rancière, che si occupa anche di queste cose, di leggendo Eserstein, a volte c'è più analogia o più vicinanza tra un regista come Robert Bresson e un autore francese come Bernanos, da cui Bresson ha tratto dei film, piuttosto che fra Bresson e Spielberg. E allora, se io vado ad analizzare le immagini soltanto identificando dal punto di vista della loro identificazione tecnica, empirica e materiale, naturalmente sarà molto più problematico mettere il rapporto con Bresson e con Bernanos rispetto, per esempio, a Bresson e con Spielberg. Ma da quando in qua è accaduto questo? Questo dobbiamo arrivare al punto che anche Mitchell, che è uno studioso di tradizione anglosassone, ma insomma un interprete molto noto dei visual studies di scuola anglosassone, qualche problema su questo se l'è posto. Ma da quando in qua la questione delle immagini appunto si è risolta nell'identificazione delle condizioni materiali di genesi, produzione e fruizione delle stesse? Da quando in qua le immagini sono risolte nelle equivalenze e convertibilità di oggetti esterni, eludendo ogni problema di forma, ogni circuito tra il dettaglio e l'insieme, il segno e il senso? Ho citato questa domanda che si pone lunghi, questa, diciamo, enunciazione di lunghi rispetto alla bellezza di quella mano protesa in quel gesto trattenuto. Allora io penso che questa nozione di visualità, come sempre, su questo non bisogna, diciamo, scandalizzarsi, però bisogna avere la capacità di mettere a fuoco il problema, questo sì. Quindi vedere ciò che eventualmente ci permette di capire meglio il funzionamento di alcuni dispositivi, ma ciò che invece rischia di escludere in maniera fortemente problematica. Allora questo è accaduto quando, da un punto di vista cognitivo e culturale, servivano delle nozioni che corrispondessero a quelle che sono state le grandi politiche economico-neoliberali, quindi dagli anni 90 in poi. Dagli anni 90 in poi questa nozione di visuale è servita perché garantiva uno scambio delle immagini, piuttosto che il loro uso. L'immagine ha un valore d'uso, cioè fa sì che lo spettatore, il fruttore, il lettore riposi in quell'immagine, si ponga le domande, ascolti le domande che l'immagine pone e a quel punto può dire, longhi o non longhi, che quell'immagine è bella, nel senso in cui longhi si pone questo problema. Invece a un certo punto non servivano più nozioni che in certo senso potessero valorizzare il valore d'uso delle immagini, servivano del valore di scambio, perché non era casuale, perché questo valore di scambio è stato sempre più forte naturalmente, quindi non c'è una gratuità in questo. Però che è successo? Quando servivano nozioni che accentuassero il valore di scambio, questa nozione di visualità si è imposta. C'è un grandissimo, l'ultimo grande critico cinematografico, ne parlavo ieri, in un incontro alla Feltrinelli e poi anche alla Cineporto, cioè Serge Danet, che già nel 92 diceva l'immagine si è fatta visuelle, e per lui era un grave problema, perché questo visuale impediva la mediazione critica, impediva una riflessione critica capace di tirar fuori dalle immagini un loro senso, diciamo così, di usarle nel senso in cui un'immagine va usata, cioè riposare nelle immagini e tirar fuori, identificare in questo dettaglio longhiano la bellezza della mano. Allora Serge Danet, nel 92, dice, beh, le immagini stanno scomparendo e si fanno visuelle. È un problema. Come il visuelle diventa incriticabile? Diventa inanalizzabile? È difficile trovare la mano ai longhi nel visuelle? Per lui quello era un problema. Però a un certo punto quel problema, quel visuelle, è diventata addirittura la parola cardine che ha raccolto tutti gli studi sulle immagini da quegli anni in poi. Per cui occuparsi di immagini in qualche modo ha significato anche occuparsi di studi visuali. Ora, che cosa vuol dire? Che l'immagine, è vero che l'immagine non ha cominciato a farsi visuelle, non ci sono dubbi. È vero che la produzione delle immagini è stata anche la costituzione di un dispositivo immaginario potente. Ma nessuno... Però questo è un problema. Questo è un problema che lo studioso deve sapere individuare. E il critico deve sapere mettere a fuoco. Invece, gli studi sulle immagini si sono appropriati di questa trasformazione della produzione delle immagini facendone in qualche modo la parola d'ordine che ha organizzato interi campi disciplinari. Ah, qualcuno dice sì. Perché questo ha finalmente, come dire, permesso, diciamo, di svecchiare, qui so che ci sono degli storici dell'arte, qui gli studi di storia dell'arte che erano troppo storici. Ma senza occuparsi, diciamo, del problema di questo, di che cosa questo potesse significare rispetto allo studio delle immagini, alla tradizione delle immagini. Quindi erano importanti a un certo punto categorie cosmiche. Questa è una nozione che usa, per esempio, De Carolis leggendo i neoliberali austriaci nel suo libro recente, Rovescio della libertà, le categorie cosmiche a un certo punto sono servite perché all'interno di una categoria così generale tutto si scambia meglio, tutto circuita meglio. Sappiamo quanti oggetti nei manuali di Visual Studies rientrano in questa grande area? Di tutto. La cartellonistica pubblicitaria, gli oggetti più piccoli, come dire, i musei più eterogenei e più disparati. Leggendo, per esempio, l'introduzione di Cometa al volume di Mitchell sul moltiplicarsi di questi oggetti che vanno appunto installazioni, neonworks, theme parks, c'è di tutto. Tutto questo diventa in qualche modo legittimato oggetto di studio per chi si occupa di Visual Studies. E tutto definisce sostanzialmente una sorta di capacità di definire materialmente, empiricamente, questa molteplicità di oggetti. Annullando qualsiasi tipo di problematicità. Dunque, servivano categorie cosmiche e quindi serviva la costituzione di un piano anche teorico che permettesse una circolazione infinita non solo delle immagini, ma addirittura di tutti quell'insieme di oggetti sempre determinati, identificati materialmente ed empiricamente. cioè, in qualche modo, serviva qualcosa che indifferenziasse le immagini e le rendesse scambiabili, che ne indebolisse, cioè, il tratto espressivo, il lavoro formale, che è quello che poi costituisce l'immagine stessa, la quale, se è tale, se immagina appunto, cioè anche immaginità e non semplicemente identificazione dei motivi empirici e materiali che la definiscono, se è tale, è perché risponde a un problema, individua un problema e uno studioso, un critico, deve in qualche modo sapere tirar fuori questo problema, che non è semplicemente si costituisce un territorio della visualità diffusa, questo vuol dire fare da cassa di risonanza a un meccanismo di produzione e di diffusione delle immagini che c'è, va pensato, non va eluso, naturalmente, ma non può, in un certo senso, liquidare in forma problematica tutto il resto. La piena iscrizione dell'immagine nel visuale e l'inclusione di quest'ultimo nella sfera del mediale, attraverso lo sviluppo tecnologico che sappiamo, hanno corrisposto all'assunzione di un preciso punto di vista, tesa a far coincidere l'immagine con la sua dimensione tecnico-materiale, quel residuo solido ed opaco a cui addirittura Sartre diceva bisognerebbe far sì che le immagini non si risolvano solo in questa, adesso sembra l'unica dimensione diciamo di orientamento della prospettiva di analisi delle immagini. Quindi da un lato questa cornice sembra ridurre l'immagine dalla sua dimensione tecnico-materiale dall'altro a renderla convertibile ed appaiabile a tutte le altre immagini a prescindere dal loro uno. La convertibilità totale di un iconico medializzato sembra la posta in gioco più rilevante di una prospettiva che estendendo illimitatamente l'orizzonte delle immagini the global flow of visual culture dicono anche i due studiosi come Starker e Cartwright ma l'immagine da questo punto di vista perde la sua problematicità perde come dire la capacità di essere interrogata a partire dal suo tratto formale poi possiamo dire che anche il suo tratto formale cambia nel dispositivo di produzione delle immagini nel momento in cui queste immagini entrano in dispositivi economici o di potere ma questo era chiaro anche a tanti grandi pittori Andy Warhol ha detto che questo sostanzialmente che le immagini in qualche modo appartengono ad una sfera della visualità e quindi una sfera della pubblicità da un lato o della propaganda politica dall'altro ma l'ho detto in maniera consapevole e lì c'è un problema che viene tematizzato dal fare quadro insomma sembra che la man più bella che io conosca con l'idea di un approccio visuale non esista proprio cioè non venga proprio riconosciuta ci sia proprio come dire un'interdizione a vederla obiettivamente perché quella mano deve in qualche modo riposare in se stessa avere uno sguardo che è capace di tirarla fuori di contemplarla sembra appunto che a volte in una tale prospettiva di visual status quella mano sembra non esistere perché le immagini appunto sono il problema a cui rispondono e quindi questo problema che dobbiamo di volta in volta fare emergere non semplicemente neanche soltanto semplicemente l'immagine come dato culturale genericamente culturale certo c'è una produzione di immagini che è più prevedibile e più standardizzata e più stereotipata il cui valore potremmo dire culturale dominante però appunto e questo è il problema da interrogare e non viene legittimata da questo punto di vista quel tipo di immagine nella sua comparabilità infinita e totale con altre quindi questa felicità nel confronto di un dipinto insieme a uno spot pubblicitario fa problema obiettivamente perché non è che non è che voglio dire molti grandi registi hanno fatto pubblicità no ma io non so quanto serva secondo me serva poco analizzare o studiare la pubblicità di Fellini per capire il suo cinema è relativo il suo cinema si spiega attraverso i film che lui ha fatto perché il problema dell'immagine non è soltanto una jazz una produzione è anche il loro uso la destinazione quindi se vogliamo rimanere nel cinema sicuramente possiamo anche utilizzare e trovare nell'immaginario pubblicitario qualcosa che possa servire come uno studioso può sempre cercare di fare ma in sostanza Fellini o leggere il cinema di Fellini non necessita più di tanto veramente della capacità di conoscere e analizzare anche la sua produzione pubblicitaria cosa vuol dire che lì il talento anche di produzione visiva lo ritrovi ma la destinazione dell'immagine è completamente diversa l'uso di quelle immagini quelle immagini pubblicitarie hanno un certo tipo di utilizzazione naturalmente che ha la comunicazione pubblicitaria l'uso estetico è un'altra cosa e soprattutto questo confronto se perde il suo tratto problematico diventa una sorta diciamo di appagliamento indifferente quindi diciamo pure che a certe condizioni quel confronto è opportuno farlo ma senza il problema che anima quel confronto è il confronto stesso che fa il problema quando Danè dice l'immagine è diventata visuelle questo è un problema quello mette euristicamente a fuoco la trasformazione delle immagini e prende posizione rispetto a quella trasformazione e dunque ci dà un elemento di critico e di studioso significativo non dice semplicemente visto che sono così allora divertiamoci da secondare questo movimento senza che il problema un qualche genere di problema sia possa emergere ogni restare nell'uso può trasformarsi appunto in una pratica dell'utilizzo strumentale la verità delle immagini emerge quando nella singolarità della forma prende corpo il conflitto tra la potenza e il potere delle immagini allora usando un'immagine riposando un'immagine io cerco in qualche modo di tirar fuori il problema che quell'immagine porta con sé dunque lo spazio di immaginità che apre cioè la sua potenza di dirci qualcosa se io riduco questa potenza e ne faccio un elemento materiale iscritto in un dispositivo totalizzante come è la visualità di questo ne faccio un elemento di potere per questo le immagini hanno sempre a che fare con il potere di chi le gestisce di chi le produce di chi le legge lo sappiamo la chiesa quanto in qualche modo si è sempre interessata al problema delle immagini allora quindi l'immagine di per sé in un certo senso si colloca su questo crinale tra la potenza e il potere a un certo punto secondo me l'approccio visualista diciamo così di visual studies l'ha considerato le immagini secondo ogni diciamo prospettiva come elementi interni a un dispositivo di potere che poteva essere economico commerciale o anche citavamo prima World potere politico i regimi la propaganda eccetera eccetera dunque è l'uso delle immagini che ne fa emergere la sua potenza la potenza delle immagini mentre lo scambio che li riconsegna come elementi di un dispositivo di potere sia esso economico o politico c'è un problema anche di forma voglio dire c'è un tessuto formale l'uso di queste forme che necessita di essere interrogata a partire anche appunto dalla destinazione delle immagini stesse il problema non è la raffinatezza della composizione o della costruzione di uno spot pubblicitario che può essere apparentata anche a quella della produzione di un'immagine artistica ma la loro destinazione in qualche modo è completamente diversa lì c'è un utilizzo delle immagini che deve intercettare il desiderio spettatoriale di comprare quell'oggetto dall'altra parte c'è un uso che invece deve farci rivelare che cosa qual è il problema che quell'immagine pone dunque identificare le immagini con la loro materialità senza forma significa sottratare il loro senso in nessuno dei grandi pensatori del novecento l'accennavo prima la questione delle immagini è coincisa con la loro determinazione materiale per Bergson addirittura dei materi e memoria siamo a 1896 l'immagine come cosa in sé identifica un piano ontologico preliminare a ogni definizione epistemologica addirittura grandi concezioni dell'immagine in qualche modo prescindevano a volte quasi completamente o totalmente dalla loro presenza materiale la grande metatoria bergsoniana che poi riprende Deleuze addirittura identifica un piano di convertibilità totale delle immagini però che non sono immagini empiriche immagini date è questo il piano di immagini in materia è un piano ontologico addirittura senza dimensione epistemologica per ese Stein lo citavo prima un autore molto importante da questo punto di vista perché è importante perché ci dimostra come i grandi studiosi delle immagini anche sviluppando l'istanza comparativa in maniera molto forte però non la scindevano mai dalle momenti problematiche cioè dal fatto che l'immagine conteneva in sé un'immaginità e questa immaginità come può essere rivelata se non dallo sguardo che la sta osservando e che fa di quell'immagine un'immagine soggetta ad uso e non a scambio con le altre immagini e se sempre per esempio dice che l'immagine è obraz no e poi è obraz nost immaginità dice lui qualcosa che deriva dall'essere immagine ma non è esattamente empiricamente materialmente identificabile dell'immagine stessa per Warburg lo sappiamo no in MacLeban l'immagine sopravvivenza di altre immagini che la abitano e che ne fanno sempre un montaggio no pensate appunto l'Atlante di Warburg dove le immagini anche prese in carico nella dimensione non esattamente esclusivamente artistica per esempio però è chiaro che vengono comparate a portare a partire anche dal fatto che nelle immagini possa sopravvivere qualcosa della loro storia e quindi di una tradizione di una loro temporalità dunque l'immagine è tutto ciò che in un certo senso la distingue dalla sua materialità ma non dalla sua forma è tutto ciò che la distingue da uno sfondo indistinto ma anche da se stessa perché l'immaginità che è il centro del cuore dell'immagine cioè il suo senso non è esattamente empiricamente e materialmente identificabile quindi certo che l'immagine appartiene ad una storia e ha un indice di storicità molto forte ma anche degli elementi transtorici qualcosa che sta nella storia ma che fuoriesce dalla storia sempre quel gesto e quella mano trattenuta che ci parlano ancora oggi del quadro di Antonello da Messina è chiaro che possono essere spiegate secondo tanti riferimenti di tipo storiografico è pure vero che quell'immaginità di quel quadro se qualcosa ci dice a noi è perché è capace di fuoriuscire dal quadro stesso e questa fuoriuscita di quella mano del quadro stesso che tipo di elemento sarà potremmo dire con un termine che poi buona parte anche della filosofia ha utilizzato in questi casi penso anche a ricchiere è un elemento transtorico non è scindibile non è scindibile dalla storia ma è capace anche di eccederla e quindi noi possiamo vedere tante teorie dell'immagine che fanno sì che l'immagine sia per esempio due no? Knackleben sopravvivenza non è mai semplicemente uno pensate a tutte le operazioni che ha fatto Godard per cui un'immagine non è mai sola per esserci immagine ci deve essere almeno due ma che cos'è questo due delle immagini naturalmente non è certo la loro convertibilità infinita in un piano di visualità illimitata dove quadri e pubblicità vanno di pari passo ma il fatto che in qualche modo l'immagine al suo interno è sempre aperta da quella che con esiste mi piace chiamare perché mi pare la formula più felice l'immaginità delle immagini cioè ciò che fa di un'immagine un'immagine per questo l'immagine ha bisogno di un di qualcuno che la faccia parlare che le dia parola che individui e non semplicemente qualcuno che accompagni e costeggi e assecondi il fatto che l'immagine essendo adesso diventate produzione di dispositivi visuali hanno bisogno hanno bisogno di categorie che assecondino e accompagnino questa produzione vogliamo fare gli imbonitori non serve sì possiamo pure divertirci a fare questo l'abbiamo fatto per smantellare e costruire i dipartimenti universitari in tutto il mondo per mettere tutto il contrario di tutto insieme ma soprattutto quello che ci tengo a mettere in evidenza è che non è nella comparazione il problema ma è nello scambio equivalente la comparazione se fatta a partire dall'emergenza di un problema metti Eserstein lo consiglio un autore esemplare su questo allora diventa un elemento euristicamente efficace o nei montaggi delle tavole che fa Warburg dove ci sono non soltanto immagini artistiche naturalmente ma lì c'è l'immagine che diventa subito montaggio subito composizione subito identificazione di un problema perché poi lo sappiamo l'immagine è sempre disgiunzione tra ciò che rappresenta e rappresentato pensiamo delle immagini cinefotografiche c'è sempre la disgiunzione tra l'aderenza del mondo all'immagine e la sua trasformazione in significati c'è uno dei saggi fondativi della riflessione teorica sul cinema della modernità che è ontologia dell'immagine fotografica di André Bazin il fondatore dei Cahiers du Cinema stiamo in 1945 che dopo che Bazin ci dice tra l'altro un testo scritto per un volume dedicato alla pittura quindi si capisce perché lui dice beh le immagini fotografiche finalmente sono capaci di determinare un rapporto con l'oggetto singolare di cui diventano traccia e quindi sono in un legame fra virgolamente realisticamente diciamo stringente con l'oggetto il cinema da questo punto di vista completa il realismo statico della fotografia in un realismo di tipo dinamico temporale e quindi il realismo per usare un termine base niano di quegli anni che perterrebbe alle arti cinefotografiche da un lato svincolerebbe la pittura dal problema del realismo e vabbè ma dall'altro lato sarebbe diciamo la dimensione ontologicamente pregnante delle nuove immagini poi alla fine del pezzo del saggio staccato un po' d'altra parte il cinema è il linguaggio finisce così dopo che ci dice tutto sommato che una sorta di emanazione della natura che gli oggetti accedono all'immagine così come sono metafore di tipo naturistico e quant'altro dicendo che cosa vuol dire vuol dire che questa diciamo contraddizione è il cuore stesso delle immagini tra e delle immagini cinefotografiche per eccellenza la decisione dell'oggetto singolare in qualche modo e poi la disposizione però di un apparato di significazione decisivo e d'altra parte il cinema è il linguaggio e come emerge tutto questo emerge attraverso una lettura delle immagini attraverso il loro uso attraverso la loro interpretazione non se attraverso un mescolamento di tutto il contrario di tutto anche espressioni della nostra questa disgiunzione per esempio la troviamo in quello dicevo prima in questa distinzione di Barth tra studium e punctum che in qualche modo non basta cioè lo studium lo studio il sapere il valore culturale in qualche modo non può esaurire tutto l'essere dell'immagine lui dice c'è qualcosa che ci punge nell'immagine che frattura questa saturazione diciamo del sapere e questo è l'aspetto di punctum dell'immagine che lui attribuisce di volta in volta a tanti fattori che però potremmo mantenere di questo l'idea appunto che l'immagine al suo interno è scissa in qualche modo non è pacificamente sussumibile dietro una catalogazione semplicemente di oggetto materiale culturale segnato da equivalenza e la cui equivalenza in qualche modo è garantita dal tratto di genesi e produzione delle immagini stesse che l'immagine non sia mai solo immagine tantomeno la sua incorrenza materiale tante volte ci guida anche il linguaggio ordinario dove spesso sentiamo artisti che dicono qual è stata la sua la fonte di ispirazione del tuo film della tua opera è stata una tale immagine ho preso ispirazione da un'immagine cosa vuol dire non è un'immagine nettamente materiale che tu hai sotto vuol dire che in qualche modo l'immagine è sempre alto dall'immagine ha una sfera di immaginità di senso che si proietta e che quell'immagine materiale sa intercettare ho preso ispirazione da un'immagine non vuol dire semplicemente vuol dire che quell'immagine ha un mondo si direbbe in altri termini che l'icona materialmente definita raccoglie e che sa veicolare ma l'ispirazione non è mai semplicemente derivante dalla materialità dell'oggetto perché questo prende l'espirazione dall'immagine significa che l'immaginità il senso dell'immagine prescinde dal fatto che l'immagine sia image o picture cioè immagine interiore o immagine esteriore l'immagine è sempre un'immagine immaginata o non è per riprendere questa immagine immaginata può prescindere anche dalla sua dimensione iconica esistono immagini verbali potremmo dire metafore se volessimo forzare la mano che hanno un potere di dire che oltrepassa anche la dimensione iconica ma che si deposita nel verbale stesso Ranciere a cui facevo riferimento prima riprendendo esist lo ha detto in modo chiaro due piani o concatenamenti di piani cinematografici possono dipendere da una immaginità diversa ho fatto ad esempio un person Spielberg diciamo al contrario un piano cinematografico può dipendere dallo stesso tipo di immaginità di una frase letteraria questo cosa significa per esempio può essere un approccio intelligente a leggere i rapporti tra letteratura e cinema non semplicemente sulle storie capire se tra l'immaginità di un testo letterario di un enunciato verbale e quello di un certo regista ci può essere un'assonanza maggiore che invece tra due immagini materiali cinematografiche e c'è perché ci sono certi autori che in qualche modo si rendono più disponibili ad essere tradotti tra virgolette in immagini da alcuni artisti piuttosto che da altri invece c'è un rapporto perché enunciato verbale o enunciato visivo a certe condizioni possono avere maggior vicinanza dal punto di vista della loro immaginità che due immagini materialmente appartenenti per esempio allo stesso linguaggio come il cinema no? Ma questo lo pensava Esersteen cioè questo sono elementi come dire che la tradizione anche più radicale più innovativa più aperta ha sempre tenuto presenti non c'è nessuno ha mai immaginato di perimetrare o di imitare uno studio delle immagini semplicemente alla loro realizzazione iconica materialmente definita e magari anche in forma aulica come la tradizione pittonica ma se tu operi sulla comparazione se tu pretendi questa comparazione io voglio che questa comparazione abbia una capacità euristica vera identifichi il problema e il problema delle immagini è che non coincidono esattamente neanche con la loro genesi e la loro produzione ed esistenza materiale quindi a volte iscrivere l'immagine nella visualità spesso significa azzerarla cioè la visualità potremmo dire certe volte sembra l'immagine senza immaginità è l'immagine senza punto destituita di ogni potenza e dove quest'ultima è asservita appunto al potere politico economico e sociale certo che il potere utilizza le immagini senza punto però lo studioso ha un altro compito non è quello di asservire i dispositivi e il loro funzionamento no? siano essi dispositivi di un potere politico economico se i visual studies sono lo studio della cultura visuale e se quest'ultime sia l'organizzazione sociale del visivo che l'organizzazione visiva del sociale si capisce eccitazione naturalmente da Mitchell si capisce bene come il rischio dell'impoverimento delle capacità investigative nella conoscenza e nell'autenticazione delle opere in favore di una generalizzata competenza interpretativa e iconologica è un passaggio che dovrebbe destare preoccupazione e quindi Mitchell che è uno dei grandi interpreti non è consapevole di questo però questa consapevolezza poi in qualche modo diciamo non viene fino in fondo vissuta e presa in carico quindi una generica disponibilità alla conversione di immagini materiali una prospettiva di analisi immediatamente iconologica rischierebbe o rischia di destituire in maniera più forte le capacità analitiche euristiche di lettura dell'immagine in quanto immagine immaginata potremmo dire e come inventiamo del cinema facciamo un altro esempio cinematografico abbiamo parlato anche ieri alla Feltrinelli è chiaro che certo che esistono dei dispositivi visuali che orientano nel senso anche nella produzione di immagini cinematografici ma tutto non può essere restituito semplicemente da questi dispositivi e soprattutto lo studioso e il critico non può del tutto assecondarli addirittura rilegittimare dicendo sì le visuale non è il problema è l'orizzonte e questo è accaduto Danet Serge Danet pensava che l'immagine che si fa visuale con Luc Besson i primi l'ha intuito in maniera è un problema perché che facciamo noi davanti a queste immagini che funzionano da sole qualcuno forse troppo intelligente dice ma c'è una cosa assumiamo questo concetto e facciamolo nostro così costruiamo grandi dipartimenti universitari però delle capacità realmente di leggere le immagini e identificare i problemi stiamo a questo è un problema che l'immagine si faccia visuale cioè si faccia troppo codificata si faccia troppo stereotipata non abbia scarta al suo interno a parte che non è vero che tutta la produzione dell'immagine è visuale e quant'altro però assecondiamo e accompagniamo anche questa direttrice beh però non è che lo studioso il critico può fare il cantore adesso che in qualche modo le cose stanno cambiando nella prospettiva generale vediamo che non tutti quindi il cinema dicevo il cinema non è che tutto un dispositivo o le immagini esistono solo come dispositivo per letture di tipo culturale o esclusivamente culturale certo ci sono prodotti che hanno una capacità in qualche modo di definirsi in senso più stereotipato quindi che la loro sospensione è minore e che una lettura di tipo culturalista è più legittimata ma non tutto è così non tutto può essere e comunque questo fa problema in ogni caso cioè bisogna in ogni caso riflettere anche su questa dimensione genericamente o in forma totalistica e come dire culturale no questi processi di totalizzazione sono sempre processi che perdono l'istanza problematica c'è stato il linguistic turn il visual turn il bio turn e vabbè e ognuno si mette sul turn del momento magari fa una vera carriera rapida accademica dopo finisce il turn e forse si è reso conto che magari sì carriera l'ha fatta ma poi troppo poco resta allora non diciamo diciamo che i turn ci stanno pure però chiediamo a uno studioso serio di saperli riflettere anche sui turn in maniera sufficientemente critica una volta tutto era testo tutto era appunto dimensione linguistica tutto è dimensione visuale ciò che fa di un'immagine un'immagine è qualcosa che nella singolarità della sua forma nella tangibilità dei suoi motivi è capace di generare appunto quella che insisto va chiamata immaginità ricca e imprevedibile cioè non codificata e in fondo non codificabile che permetta di aprirla dal suo interno anche nel caso che questo interno sia esterno all'immagine stessa vi date il montaggio delle immagini Godard Warburg in qualche modo l'immagine è sempre già fin dall'inizio montata ma anche Eserstein pensava questo che l'immagine è già fin dall'inizio due in breve l'immagine non è ma diviene è processo e dunque e questo per esempio ancora Eserstein lo dice il metodo del divenire dell'immagine che deve essere opposto al metodo della rappresentazionalità e allora i visual status sembrano semplicemente limitarsi al metodo della rappresentazionalità se vogliamo usare questa terminologia esisteniata cioè l'immagine è no l'immagine diviene è un processo e se non la sappiamo leggere resta là muta questa processualità dell'immagine in qualche modo sembra essere totalmente sconfessata negata elusa e allora se l'immagine diviene non può essere veramente esclusivo oggetto di valorizzazione culturale senza perdere se stessa senza farsi componente di un visivo impossibilità ad aprire alcunché ad avere alcune immaginità l'immagine non è un fatto ridurla a solo fatto culturale significa svuotarla certo ci sono immagini che sembrano in qualche modo rendersi disponibili ma come quelle per esempio pubblicitarie no o di propaganda ad essere usate utilizzate strumentalmente ma questo appunto uno studioso deve sapere mettere a fuoco problematicamente anche questo utilizzo e non semplicemente assecondarlo avallarlo si tratta di immagini senza supplemento direbbe Serge Dané appunto ma quando l'immagine diventa visual dice Dané non c'è più nulla da vedere nulla da dire il visuale questo cito Dané è ciò che ci viene a dire circolate non c'è nulla da vedere ed è vero e questa circolazione la percepisci nella totalità infinita degli oggetti che molti come gli studiosi di visual studies utilizzano citano in qualche modo smarrendosi loro stessi in questa citazione e utilizzo illimitato allora se il problema è circolate lo studioso rischia di diventare un vigile non più di questo dunque sembra che una disciplina di visual studies sembra fondarsi addirittura sulla cancellazione di tale supplemento estetico e sulla possibilità di uno sguardo che in qualche modo riveli l'emerge di questo supplemento di questo punctum e in qualche modo si fondino sulla mera trasformazione dell'immagine come dato culturale come dato materialmente identificato scambiabile convertibile su un piano totale di visualità esattamente grazie 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 grazie